Benvenuti a questa presentazione. Ha bisogno di una presentazione, nel senso che volevo dirvi due parole sul perché un seminario su una proposta per l'insegnamento della meccanica quantistica nella scuola secondaria di secondo grado. Voi potete dirmi, ma io sono all'università, cosa mi interessa? Oppure perché stai parlando di come si spiega la meccanica quantistica quando io meccanica quantistica ancora non l'ho studiata, vale per quelli che non hanno ancora fatto secondo anno? Beh, ci sono alcuni motivi. Il primo per farvi vedere che esistono ricerche anche in campi un po' diversi da quelli tradizionali che non si aspetta in un dipartimento di fisica. La fisica è diventata un'impresa estremamente complessa per cui anche il fatto di saperla trasmettere, di saperla insegnare richiede delle capacità professionali e c'è gente che professionalmente si occupa di questo. Quindi magari qualcuno di voi questo messaggio potrebbe risultare interessante per la futura carriera. La seconda cosa è che vi presenterò un modo di insegnare la meccanica quantistica pensato per i licei, che decisamente non è quello che vedrete in università, cioè un'altra cosa è pensata in un modo diverso, però potrebbe darvi degli spunti del fatto che le cose si possono fare in tanti modi diversi. Quindi non è detto che il modo con cui le farete voi in università, che è sicuramente il più efficace nel trasmettere i concetti, non è necessariamente il più efficace per capire altre cose. Pensate al manuale di fisica 1. Il manuale di fisica 1 è costruito in base a una serie di ricostruzioni razionali a posteriori, per cui per esempio i teoremi di conservazione dell'energia stanno giustamente, da un certo punto di vista, subito dopo le leggi della meccanica, perché si derivano e sono a continuazione logica, ma dal punto di vista storico le cose sono date in un modo completamente diverso. Passano circa cento anni, più di cento anni tra le leggi di Newton e i teoremi di conservazione dell'energia. Quindi come vanno le cose è spesso più complicato e più a volte anche interessante per chi si interessa di queste cose, di come poi necessariamente viene razionalizzato nel manuale per convogliare un'enorme quantità di informazione nel minimo tempo possibile. A proposito della storia c'è questa citazione da Mack, che è stato uno storico della scienza molto importante, che appunto ci dice un'indagine storica sulla scienza indispensabile, se non si vuole che i principi che la scienza abbraccia degenerano poco a poco in un sistema di prescrizioni capite solo a metà o addirittura in un sistema di dogni. L'indagine storica non solo fa comprendere meglio lo stato attuale della scienza, ma mostrando come esso sia in larga misura convenzionale e occidentale, apre la strada al nuovo. Da un punto di vista più elevato, in cui convergono diverse correnti di pensiero, possiamo guardare con una visuale più ampia e scoprire strade non ancora percorse. Questo in un libro famosissimo, la meccanica del suo sviluppo storico critico, che citerò anche più avanti. Vediamo un attimo la storia e l'evoluzione dell'insegnamento della meccanica quantistica. Questa storia comincia in una maniera molto strana. La faccio cominciare da un certo punto ed è il lancio dello Sputnik, perché con il lancio dello Sputnik nel 57 l'America si accorge di essere in ritardo nell'educazione scientifica rispetto ai russi. Quindi c'è una corsa e una corsa a innovare la didattica delle scienze e questo sulla base di una certa serie di criteri. La critica all'approccio positivista di stampo ottocentesco, la messa in discussione dell'esistenza di leggi e principi apodittici, la revisione dei manuali ritenuti atemporali e di stampo ipotetico-deduttivo e il rifiuto dell'insegnamento tradizionale a favore di un insegnamento più interattivo. Per esempio cominciano a organizzare i laboratori didattici. Quindi l'idea della scienza come attività umana in evoluzione porta a identificare come strumento lo studio di casi storici. Questo programma si incarnerà in alcune attività, in alcune linee di ricerca, di cui una presieduta da Gerald Olton, importante storico della fisica, che presiede il comitato del PSURA, un manuale molto famoso che poi diventerà famoso negli anni 80, 70, 80 anche in Italia, tradotto da Zanichelli. Questo programma verrà continuato dall'Harvard Project Physics e anche le lecture on physics di Feynman sono in un certo senso il prodotto di questa temperie culturale. Sui tre volumi universitari di Feynman hanno studiato generazioni di studenti e è stato tradotto in una ventina, almeno in una ventina di lingue. Quindi c'è questa rinascita, questa forte focalizzazione di interesse su come si insegna la fisica e questo è in un certo senso un esempio di eterogenesi dei fini. Cioè i politici americani volevano più ingegneri per lanciare anche loro qualcosa nello spazio e si ritrovano con della gente che si occupa di storie della fisica. Questa onda lunga arriva in Italia negli anni 80, quando da parte dei gruppi di ricerca di didattica c'è l'elaborazione di proposte per la scuola secondaria superiore e anche che questo filone privilegia l'evoluzione storica delle idee della fisica. Le argomentazioni che vengono adotte a favore del metodo storico sono motivazioni culturali a largo spettro, l'idea di umanizzare la scienza, far vedere come anche la scienza sia un'attività culturale in senso proprio, motivazioni epistemologiche, imparare sulla scienza, non solo dalla scienza, cioè imparare anche i meccanismi con cui funziona e si evolve la scienza, i meccanismi con cui una comunità produce scienza e motivazioni psicopedagogiche. L'idea che l'evoluzione della fisica sia in un certo senso rispecchiata che l'evoluzione delle concezioni intuitive di un adolescente in un certo senso segua l'evoluzione globale della storia della, per esempio, della fisica, cioè il fatto che naturalmente le persone tendono a essere aristoteliche nelle concezioni della meccanica, cioè all'inizio uno pensa spontaneamente, intuitivamente, che una cassa su un pavimento si muove a velocità costante perché la spingo con velocità, con una forza costante. Questa è un'idea sbagliata perché lì è l'attrito che gioca un ruolo importante che lì non viene tenuto, di cui non si tiene conto, ma questa idea che uno ha abbastanza spontaneamente era un'idea che non a caso c'era gli albori della scienza fisica. Poi man mano che c'è un'evoluzione arrivano concessioni più raffinate. Come inserire la meccanica quantistica nei programmi scolastici in Italia? Fino al 2000 praticamente nulla, non c'era nulla. Il programma si fermava alla fisica classica e si parlava a decenni di fisica moderna solo per i licei scientifici. Nel 2010 arriva un decreto legge che differenzia per gli istituti non scientifici percorsi relativi all'ultimo anno, al microcosmo e o al macrocosmo, per i licei scientifici corpo nero, effetto fotoelettrico, spettri atomici discreti come evidenza del quanto di luce e poi la natura ondulatoria della materia, De Broglie, e il principio di indeterminazione. È poco più che, sono poco più che appunti scritti sul retro di una busta, perché voi capite che questo non è un programma organico, non dice cosa come quando e infatti è abbastanza modesta come indicazione e lascia aperti vari problemi e difficoltà. Le difficoltà sono legate al carattere controintuitivo della teoria quantistica, al fatto che esistono questioni epistemologiche e filosofiche che di solito non si incontrano in fisica classica e c'è il problema di quando e come introdurre gli argomenti, come gestire la transizione, come introdurre la transizione della fisica classica alla meccanica quantistica, la scelta del formalismo matematico con lo scopo di riuscire ad attivare nei discenti riflessioni e ragionamenti. Quindi questo è un po' il panorama delle difficoltà a cui si è cercato di dare risposta con strategie diverse. E questo ha portato in Italia a varie proposte per l'insegnamento della meccanica quantistica. La prima, storicamente, cronologicamente, di Elio Fabri di Pisa, che rifiuta un approccio storico. Dice che la storia della meccanica quantistica è troppo complessa, nei suoi meandri, nelle sue diramazioni, per poter essere didatticamente efficace. Lui pensa alla trasmissione diretta dei concetti quantistici coerentemente organizzati, cioè pensa a una razionalizzazione a posteriore simile a quella dei manuali universitari di fisica. E sostanzialmente lui pensa a tre passaggi. Innanzitutto introdurre i risultati sperimentali che hanno portato i primi modelli quantistici. Cioè lui vuol far vedere che questa, la teoria quantistica, non nasce dalla mente di un fisico che una mattina si è svegliato. Nasceva da una serie di problemi sperimentali che non avevano più risposta nell'ambito, nel quadro della fisica classica. Non entrerò nei dettagli, chi è interessato può leggere i passaggi che lui indica per arrivare a questo. Secondo passaggio, il ruolo della probabilità e lo sviluppo della fisica statistica. La probabilità viene solitamente negletta in fisica classica, è qualcosa con cui difficilmente si fa riscontro e invece diventa importante quando si parla di fisica quantistica. E quindi lui dice bisogna introdurre il concetto di probabilità in maniera rigorosa. Lo fa con le distribuzioni di Boltzmann, ovviamente la matematica che soggiace a questo tipo di trattazione è troppo complicata per il liceo e lui suggerisce di utilizzare delle simulazioni numeriche al computer. E il punto nodale, il punto centrale della sua proposta è il calcolo, di arrivare al calcolo delle ampiezze di probabilità e in questo modo introduce la complementarità, il principio di sovrapposizione, relazioni di indeterminazione e interpretazione probabilistica. Lui stesso si dichiara non completamente soddisfatto della proposta. Lui dice non è organica quanto vorrei, cioè è un tentativo di organizzare una materia complessa e vasta e quindi questo è un tentativo che lui stesso dice non essere pienamente soddisfacente. Un secondo approccio completamente diverso è di Giuseppina Rinaudo di Torino e in realtà si tratta di due proposte diverse, ma l'idea è quella di trovare invece una continuità con la fisica classica. La continuità con la fisica classica viene trovata innanzitutto in una prima proposta introducendo la quantizzazione dell'energia, è uguale a canù a partire dalla costante di Planck che viene vista come punto nodale della diramazione tra fisica classica e meccanica quantistica. Questa proposta viene ulteriormente poi elaborata qualche anno dopo nell'idea di un esperimento, quello della doppia fenditura in ottica di cui poi parleremo diffusamente, per creare un ponte tra fisica classica e meccanica quantistica. Il punto di arrivo è quello di convincere gli studenti che in meccanica quantistica è necessario abbandonare l'idea classica di traiettoria e l'oggetto perché? Perché l'oggetto quantistico si vuol far vedere, si muove su tutti i possibili cammini di Feynman e quindi questo passaggio, questa continuità e discontinuità è proprio rappresentata da quello che succede nel caso di una doppia fenditura. Una impostazione che invece definirei assiomatica è quella proposta da Marisa Michelini dell'Università di Udine che parte dalla definizione dello stato quantistico del principio di sovrapposizione, cioè parte proprio a definire quali sono gli strumenti formali e concettuali della meccanica quantistica per poi applicarli. Utilizza l'ottica, la polarizzazione della luce e esperimenti con fotoni polaroide e cristalli birifrangenti per creare un ponte tra concetti classici, lo stato di un fotone polarizzato linearmente che a cui corrisponde in meccanica quantistica un vettore in uno spazio bidimensionale e a variabili dinamiche corrispondono invece in meccanica quantistica operatori quantistici. Ricava poi il concetto quantistico di incompatibilità e le relazioni di indeterminazione di Heisenberg. L'ultimo approccio che voglio mostrarvi che è stato elaborato da tre fisici che lavoravano al tempo tutti all'Università di Pavia ma girano rate di Ambrosie, due di loro sono presenti oggi, è stato elaborato a partire dal concetto della differenza dell'esperimento con i due cammini, una doppia fenditura, un Mach-Zender o un interferometro di Mach-Zender e si basa sulla differenza tra il trattamento delle probabilità in fisica classica dove la probabilità di eventi indipendenti è data semplicemente dalla somma delle probabilità e quello che accade in meccanica quantistica dove invece si sommano le ampiezze. Allora voi vedete semplicemente che quando voi qui avete eventi indipendenti ma fate il modulo quadro per avere la probabilità dovete fare il modulo quadro dell'ampiezza, quando qui avete un binomio inevitabilmente avrete un termine corrispondente diciamo al doppio prodotto, cioè avrete dei termini di interferenza. Quindi in meccanica quantistica compaiono dei termini di interferenza che non ci sono nella probabilità di tipo classico. Mediante degli esperimenti descritti, l'effetto fotoelettrico o in parte anche realizzati, effetto fotoelettrico contro una doppia fenditura, si arriva alla necessità di postulare l'esistenza del fotone. Un esperimento recente di Granger-Rosje-Respect deve convincere gli studenti della indivisibilità del fotone e l'interferometro di Mark Zender dell'esistenza e del ruolo di questi termini di interferenza. L'indivisibilità del fotone che cosa significa? Vuol dire che quando c'è una doppia fenditura, il fotone non si divide in due per passare un po' di qua, un po' di là, come possiamo pensare faccia un'onda. Il fotone è un oggetto quantistico unico e non può dividersi per passare ad entrambe le fenditure. Questo porta apparentemente a dei paradossi e per esempio il paradosso in un Mark Zender, che è uno strumento, un interferometro simmetrico, avete questa situazione strana dove con questa struttura voi avete che il rivelatore 1 riceve il 100% del segnale, cioè dei fotoni emessi dalla sorgente, divisi in questo divisore di fascio e poi riflessi da questi due specchi M1 e M2 e l'altro rivelatore invece non riceve fotoni. Se voi ragionate oscurando primo uno specchio e oscurando poi l'altro, oscurando uno specchio vedreste che questi due rivelatori ricevono il 50 e il 50, oscurando l'altro specchio analogamente riceverebbero il 50 e il 50, quindi voi vi aspettate intuitivamente che quando entrambi gli specchi sono funzionanti si riproduca la stessa situazione, cioè il 50 e il 50 di segnale sui due rivelatori. Invece no, proprio i fenomeni i fenomeni, i termini di interferenza giocano in un modo tale con gli sfasamenti per cui tutto il segnale è raccolto da un solo rivelatore. E queste erano le proposte di cui vi volevo parlare. Adesso veniamo a una proposta didattica che ho elaborato in vari anni insegnando essenzialmente storie e fondamenti della meccanica quantistica ed è una proposta che in un certo senso ribalta i termini del problema. Cioè io sostengo che il problema nell'imparare la meccanica quantistica è un problema concettuale, è un problema di filosofia, è un problema di idee e invece la tecnica, le tecniche matematiche, solo si possono derivare facilmente a questo livello ovviamente, stiamo parlando di scuola superiore, non sto parlando di spazi di Ilberto, di Delta di Dirac, e che è necessario fornire gli strumenti per affrontare i problemi concettuali e filosofici che questa nuova teoria pone rispetto alla teoria più massica. Premesse filosofiche. Le premesse filosofiche fondamentali è che per formulare teorie scientifiche si devono compiere tre scelte di tipo metafisico, cioè cosa intendo per metafisico? Che non sono scelte razionalmente basabili sulla scienza, cioè per fare scienza dovete fare delle assunzioni estrascientifiche. Queste tre assunzioni sono quella del realismo, cioè dovete decidere che esiste una realtà esterna e che ha una sua logica, perché se no non fate il mestiere dello scienziato, vi dedicate ad altro. E a questo proposito c'è una storiella di Enrico Fermi che quando era studente alla normale andava in campagna in bicicletta con un suo compagno di studi alla normale che era un filosofo gentiliano, un idealista che sosteneva che la realtà esterna non esiste, è tutta una proiezione dell'io individuale. Una volta sono in campagna in bicicletta o intorno a Pisa, il filosofo prende un sasso e cade dalla bici. Allora Enrico Fermi si ferma, lo aiuta a rialzarsi, dice ma scusa ma quel sasso non potevi pensare da dieci centimetri più a destra. E quindi uno scienziato necessariamente è un realista, però esistono due tipi di realismo diverso e questo non viene mai detto. E invece è importante. Esiste un realismo scientifico e un realismo strutturale. Il realismo è scientifico se io credo nell'esistenza degli enti fisici postulati dalla teoria. Cioè io devo credere che non solo la teoria mi descrive il bosone di X e io raccolgo delle evidenze fenomenologiche che sono in accordo con l'esistenza del bosone X, ma credo proprio che il bosone di X esista. Cioè che in natura ci sia il bosone di X, che quindi gli enti della teoria siano enti fisici reali. Un realismo, una forma di realismo più cauta è quella del realismo strutturale che crede nelle relazioni del formalismo della teoria, invece sospende il giudizio sulla realtà degli enti. Cioè la teoria mi predice certe relazioni, quelle relazioni io in laboratorio le verifico e quindi ci credo, ma che poi davvero esistano quegli oggetti o quelle cose che la teoria mi prevede, ragioniamoci su. Cioè può darsi di sì, può darsi di no. Credo che pochi oggi dubitino dell'esistenza degli elettroni, a 120 anni dalla scoperta dell'elettrone, ma un sociologo della scienza sicuramente, che sa sicuramente di cosa parla, che si chiama Pickering, dice sull'esistenza dei quark non ho assolutamente la stessa certezza che ho dell'esistenza delle automobili. Quindi non tutte le cose stanno sullo stesso piano quando parliamo di ontologia. La seconda cosa che dovete scegliere è la struttura dello spazio-tempo, cioè se scegliete uno spazio-tempo assoluto relazionale, questo è un discorso lungo e importante, che non farò stavolta, ma che riassumerò nella prossima tabella. E poi dovete scegliere l'ontologia primitiva, cioè dovete scegliere quali sono i vostri mattoncini Lego, con cosa pensate, con cosa pensate che sia fatta la realtà. E qui, sorpresa sorpresa, ogni teoria ne inventa una diversa. Cominciamo con lo spazio-tempo. Sostanzialmente come lo spazio-tempo avete due grossi campi. Le teorie non relativistiche, che pensano uno spazio-tempo diversi, newtoniani assoluti, e le teorie relativistiche che invece utilizzano lo spazio-tempo quadridimensionale di Minkowski. Quindi qua, diciamo, la partizione del campo è piuttosto semplice. Quelle non relativistiche, quelle relativistiche. Ma quando invece andiamo a vedere l'ontologia primitiva, il discorso diventa molto più complicato. Perché vi accorgete che quasi ogni teoria, non quasi, ma varie teorie postulano enti diversi. La meccanica di Newton, per esempio, pensava che esistessero forze e particelle. La meccanica classica, onde e particelle. La meccanica quantistica non relativistica è molto peculiare, utilizza il dualismo onda-particella di cui ci occuperemo molto da qui in poi. Le teorie successive quasi tutte invece utilizzano campi e particelle. Quindi vedete che non è assolutamente omogenea la prescrizione, la ricetta su come si costruisce una teoria fisica. Varie teorie postulano vari enti diversi per costituire la propria ontologia. Veniamo all'ontologia della meccanica, all'ontologia primitiva della meccanica quantistica, che è basata sul dualismo onda-particella. Non vado adesso attraverso tutti questi passaggi, perché li vedremo più avanti, nella parte terminale della presentazione. Voglio soltanto dirvi che guardate in quanti modi diversi è stato interpretato il dualismo onda-particella. Cioè ci sono sei o sette modi diversi di cercare di capire cosa diavolo è questo dilemma onda-particella. E perché ci sono sei o sette interpretazioni diverse? Beh, perché bisogna capire il rapporto tra formalismo e interpretazione in una teoria. Altra cosa che spesso viene sottaciuta. La matematica, il formalismo, è in sé un linguaggio auto-evidente. Quando io dico f uguale a m per a da un punto di vista matematico sto dicendo una banalità. Moltiplico uno scalare per un vettore e ottengo un vettore. Niente di più, niente di meno. Dal punto di vista della fisica sto dicendo una cosa complicatissima. Perché devo dare il significato ai simboli. Che cos'è F, che cos'è M, che cos'è A. E non è assolutamente scontato. Infatti ci vorranno 200, quasi 200 anni, tra la formulazione della legge della dinamica da parte di Newton e Principia e la prima ricostruzione razionale consistente della legge della dinamica da parte di Mach in quel libro, la meccanica nel suo sviluppo storico-critico del 1883. Quindi ci sono involuti 200 anni per capire che cosa Newton aveva scritto 200 anni prima. E l'interpretazione del formalismo è quindi parte essenziale di ogni teoria formalizzata. Formalizzata vuol dire espressa matematicamente. Dice Maxi Hammer, che è stato un importantissimo filosofo della meccanica quantistica, la formulazione e comprensione di una teoria fisica necessita sia del formalismo matematico sia dell'interpretazione epistemologica. Servono tutte e due, ma non stanno sullo stesso piano. Per dirvi come stanno, più o meno uso questo schema. Questa figura vi fa vedere che la teoria fisica è una specie di, pensiamo a un oggetto, se volete un frutto, che ha un nocciolo è una polpa. Il nocciolo è il formalismo, sono le equazioni che caratterizzano quella teoria e invece l'interpretazione, il senso che date ai simboli che compaiono nel formalismo, è l'interpretazione che avvolge il formalismo. Ora, il formalismo non può cambiare. Se cambiate il formalismo, se cambiate l'equazione, state cambiando teoria. Il formalismo è il nocciolo duro. L'interpretazione no. L'interpretazione può cambiare molto. Potete cambiare più volte l'interpretazione mantenendo lo stesso formalismo. Dipende da tante cose. E ricordiamoci sempre che tutta la teoria, formalismo e interpretazione, poggia su delle premesse che non sono fisiche, sono metafisiche. Quella metafisica influenza, cioè quelle premesse non scientifiche, ma di tipo filosofico che dovete fare prima di decidere che costruite la teoria in un certo modo. Quindi questi sono gli ingredienti di cui bisogna tenere conto. E veniamo alla fisica dei quanti. Il punto di partenza è la fisica dei quanti. La fisica dei quanti è necessaria introdurla ora con un approccio più o meno storico perché ci darà gli elementi fondamentali per ricavare poi in modo facile la meccanica quantistica. La fisica dei quanti, come molti di voi sanno, comincia con Max Planck nella dicembre del 1900 e quando lui si occupava di studiare lo spettro emissivo del corpo nero che presentava dei problemi non facilmente risolubili sulla base della fisica classica. Per risolverli arriva a introdurre il concetto di quanto di energia, cioè scrive la formula E uguale NH nu, dove E è l'energia che viene emessa dal corpo nero e H nu è la quantità minima di energia. Perché è minima? Perché l'energia viene emessa per forza per multipli. N è un numero intero, 1, 2, 3, 4. H nu dovete pensarlo come il centesimo. Non potete fare uno scambio economico che sia sotto il centesimo perché non esiste una moneta più piccola del centesimo. Voi spenderete sempre multipli di un centesimo. È la stessa cosa con la quantizzazione dell'energia. Questo concetto è scandaloso perché in fisica classica l'energia è associata, se volete, a un moto, ma il moto dipende da una velocità e la velocità va da zero a infinito, non c'è una velocità minima. Voi potete partire da fermi, non avete energia cinetica, man mano che aumentate la vostra velocità aumentate la vostra energia cinetica. L'energia è una proprietà che varia nel continuo in fisica classica. Qui emerge invece questa quantizzazione dell'energia. Quantizzazione dei quanti di energia che il corpo nero emette come radiazione, come onde elettromagnetiche e che vengono emesse dal corpo riscaldato a una certa temperatura. Per Planck si trattava soltanto di un artificio matematico, cioè di un modo per far quadrare conti. Cinque anni dopo Albert Einstein ipotizza invece che la luce a livello microscopico sia costituita proprio di particelle. Queste particelle che lui chiama quanti di luce e noi ora chiamiamo fotoni e se nu è la frequenza della luce l'energia di quei fotoni è sempre uguale a canù, la stessa formula di Planck, dove h è quella costante che oggi chiamiamo costante di Planck. Grazie a tale ipotesi, cioè dell'esistenza dei fotoni, riuscì a spiegare nel 1905 l'effetto fotoelettrico per il quale vinse il Nobel nel 21. E l'effetto fotoelettrico spiegato da Einstein consiste nel fatto che se della luce di una certa frequenza incide su un metallo, ne fuoriescono degli elettroni. La cosa anomala era che, per esempio, su un metallo di sodio, su una superficie di sodio, la luce incidente rossa non provocava effetto fotoelettrico, la luce incidente blu sì. Perché? Einstein dice perché la luce blu è più energetica, perché siccome la sua energia è proporzionale alla sua frequenza, h nu per la luce, per l'ultravioletto è maggiore di h nu per l'infraorso. Quindi i fotoni dell'ultravioletto portano abbastanza energia da scalzare i fotoelettroni dal metallo, i fotoni della luce dell'infraorso, no, e quindi l'effetto fotolettrico non avviene. L'altro ingrediente necessario è in un certo senso il completamento di questa idea che le onde siano costituite a livello essenziale di particelle, e fu lavorata molto più tardi, nel 24, da Louis de Broglie, e che lui sostiene che a livello microscopico ogni particella è accompagnata da un'onda. È accompagnata da un'onda fisica, un'onda materiale, che guida la particella. Infatti lui parla di onda di fase o anche onda pilota. In questo modo lui ricava la formula per cui diventerà famoso lambda uguale a HP, cioè associa una lunghezza d'onda a una proprietà come il momento tipica di una particella che ha una certa massa e una certa velocità. Quindi lui dice anche alle particelle materiali deve essere associata un'onda. Queste due relazioni, come le onde elettromagnetiche hanno un aspetto particellare dato da E uguale a Canu, le particelle hanno un comportamento ondulatorio. Queste due formule, le due formule che adesso vedremo, diventano le formule fondamentali per ricavare i risultati della meccanica quantistica. Planck 1900 ipotizza E uguale a Canu, Einstein 1905 attribuisce a questo E a Canu un significato fisico, cioè gli attribuisce l'esistenza di una particella che oggi chiamiamo fotone e l'altro aspetto del dualismo onda particella verrà completato da De Broglie nel 24 con la relazione lambda uguale a HP. Quindi quanto di luce e onde materiali espressi da queste due relazioni sono due aspetti del dualismo onda particella che caratterizza a livello dell'ontologia primitiva la meccanica quantistica. Quindi lo strumento fondamentale per passare dalla meccanica classica alla meccanica quantistica è legato a queste due formule, che è quello che cerco di farvi vedere adesso. Per esempio prendiamo il modello atomico di Bohr. Se voi costruite una condizione di periodicità dell'onda di De Broglie, cioè l'onda che si deve richiudere su se stessa per dar luogo un'orbita stabile, a questa formula classica di periodicità dell'onda associata il dualismo onda particella, andate a sostituire lambda qua dentro e ottenete con un passaggio algebrico banale questa formula che è la quantizzazione del momento angolare, che è la formula fondamentale per ricavare nell'atomo di Bohr i raggi quantizzati e le energie quantizzate. Quindi partite da una condizione classica che è la periodicità dell'onda, gli aggiungete la condizione del dualismo onda particella di De Broglie, ottenete la quantizzazione del momento angolare dell'atomo di Bohr. Stessa cosa per l'equazione di Schrödinger. L'equazione di Schrödinger, ecco allora abbiamo detto il modello atomico di Bohr è ricavabile in modo semplice a partire dalla periodicità dell'onda di De Broglie associata all'elettrone aggiungendovi il dualismo onda particella. Allo stesso modo l'equazione di Schrödinger è ricavabile in modo semplice a partire dall'equazione d'Alembert delle onde aggiungendovi il dualismo onda particella. L'equazione d'Alembert è questa, è un'equazione differenziale, chiaramente nessuno pensa di spiegare l'equazione differenziale in un liceo. Si dice prendete questa come un'equazione, è un'espressione matematica, ok? A questa espressione matematica corrispondono delle onde, per esempio questa equazione descrive un'onda monocromatica che al liceo già conoscono. Bene, che cosa compare in questa onda, in questa equazione d'Alembert? Compare questo lambda quadro che è la lunghezza d'onda al quadrato. Andiamo a sostituirci il dualismo onda particella sempre espresso da De Broglie. Lo mettiamo qua dentro, otteniamo questo. Questo K cos'è? L'energia cinetica dell'elettrone, ma K è uguale all'energia totale meno il potenziale. Andiamo a sostituirlo, otteniamo questa equazione. Che cos'è questa equazione? L'equazione di Schrödinger. Non sto spiegando né che cosa fa, cos'è questa equazione, né cos'è questa equazione. Sto semplicemente dicendo che esiste un legame banale che si esprime in tre passaggi algebrici tra un'equazione classica che descrive un'onda e l'equazione di Schrödinger che descrive, secondo un modello ondulatorio, un elettrone. A questo punto però il problema è capire qual è il significato di questa psi che compare di questa funzione d'onda, di questa funzione d'onda che nel caso di un'onda classica è un oggetto che sta oscillando, è questa qua, descritta da una funzione seno-coseno, che cos'è questa funzione d'onda nell'equazione di Schrödinger? Nell'equazione di Schrödinger la funzione d'onda è un numero complesso, quindi non ha un'interpretazione fisica, perché le quantità fisiche, le velocità, i momenti, tutto quello che le energie devono essere espresse da numeri reali. Schrödinger quindi considera, associa a questa funzione d'onda delle quantità reali, la densità di massa, che si scrive in questo modo, o la densità di carica elettrica e quindi dice che la funzione d'onda mi dice sostanzialmente come è distribuita, come sono distribuite la carica o la massa dell'elettrone, ma questa interpretazione non funziona perché la funzione d'onda tende ad allargarsi nel tempo, quindi c'è una dispersione della funzione dell'onda, mentre invece la carica e la massa di un oggetto microscopico sono sempre localizzate. La soluzione verrà proposta nello stesso anno, nel 26, da Born, che interpreta la funzione d'onda come un'onda di probabilità. Quindi il modulo quadro dell'onda è la densità di probabilità di trovare l'elettrone in un certo volume infinitesimo in un certo istante. Quindi la funzione d'onda non è più un ente fisico come pensava Schrödinger, ma è un numero complesso, è un'ampiezza di probabilità. E questo cambia le regole del gioco, perché la meccanica quantistica descrive gli eventi fisici in termini di una probabilità, perché è la probabilità l'oggetto dell'equazione di Schrödinger. Non è la velocità o la posizione, è la probabilità che evolve nel tempo secondo l'equazione di Schrödinger. E allora qui abbiamo una differenza fondamentale con la meccanica classica. Mentre la meccanica classica mi parla di probabilità epistemiche che sono legate alla mia ignoranza, cioè quando io lancio un dado ottengo l'esito 1 con probabilità 1 sesto, soltanto perché non so descrivere in tutti i dettagli la dinamica del dado che vola, che rotola, che rimbalza e che deterministicamente mi dovrebbe dare 1 se io sapessi fare tutti i conti per bene. Siccome non so farli in questo modo, uso la probabilità, ma è una probabilità solo legata alla mia ignoranza dei dettagli del sistema. Qui no, il sistema è già descritto fin dall'inizio in termini di probabilità, quindi sono probabilità intrinseche, di cui non si non si scappa. Qui però dobbiamo a questo punto ricordarci dei due tipi di realismo, il realismo scientifico e il realismo strutturale. Se io sono un realista strutturale attribuirò queste probabilità alla struttura formale, cioè alle equazioni della mia teoria, sospendendo il giudizio sul fatto che il mondo sia intrinsecamente probabilistico o no. Cioè non posso da qui dedurre che allora Dio gioca a dadi. Dio potrebbe aver soltanto scritto delle equazioni che sono probabilistiche, ma il mondo in realtà non lo è. Se invece sono un realista scientifico, sostengo che le proprietà che emergono dalla mia struttura formale valgono anche per la realtà, come pensava Einstein. E allora dico a Bohr, ma io non ci credo che questa sia la teoria finale, perché Dio non gioca a dadi. Però bisogna tenere distinti questi due livelli. Di sicuro è una proprietà intrinseca, ma intrinseca, la probabilità in meccanica quantistica è una probabilità intrinseca. Ma intrinseca che cosa? Alla teoria o al mondo? Questo la fisica non ce lo dice. È una scelta di tipo epistemologico secondo il nostro atteggiamento nei confronti delle teorie scientifiche. Quindi la meccanica quantistica è una teoria intrinsecamente probabilistica. Veniamo all'indeterminazione. Un'altra cosa che bisogna dire è che di indeterminazioni ce ne sono due, non ce n'è una sola. C'è un'indeterminazione operazionale che è quando voi manipolate un oggetto quantistico. Questa è evidenziata dal microscopio di Heisenberg. Voi sparate, avete qui un elettrone. Per vedere questo elettrone dovete illuminarlo con della luce di una determinata lunghezza d'onda, ma a questo livello di interazione, a livello energetico, ci deve essere uno scambio tra questo fotone che illumina l'elettrone e l'elettrone stesso. Risultato, l'elettrone se ne va in questa direzione e il fotone se ne va invece entra nel vostro microscopio. Questa è la lente del microscopio. Ma nel far questo scambia energia. L'elettrone acquista energia, il fotone perde energia, infatti cambia la lunghezza d'onda. Questa è descritta da un'interazione di Compton. Che cosa succede? Che le regole dell'ottica vi dicono che la risoluzione del vostro microscopio è data da questa formula. Le regole dell'effetto Compton vi dicono che l'incertezza nella quantità di moto dell'elettrone dopo che ha interagito col fotone sono date da questa formula. Moltiplicate una per l'altra e vi accorgete che ottenete una costante. Cioè delta X per delta P è uguale a H indipendentemente dalla lunghezza d'onda che usate. Potete cambiare la lunghezza d'onda come volete, ma siccome cambia qui al numeratore e qui al denominatore il prodotto verrà sempre H. Avete scoperto una incertezza, o meglio che il prodotto di due incertezze non può essere minore di una quantità positiva. Questo è il succo della relazione di indeterminazione operazionale di Heisenberg. Ma non è l'unica. Se voi prendete dei battimenti, per costruire dei battimenti dovete prendere entro questi due nodi due lunghezze d'onda, cioè n lunghezze d'onda, n onde, cioè delta X deve contenere n volte la lunghezza d'onda della prima onda e almeno n più 1 volte l'altra lunghezza d'onda che contribuisce a costruire questo battimento. Quindi devono valere queste due relazioni che sono relazioni delle onde, non c'è niente di strano. Delta X è questa distanza, contiene n volte la lunghezza d'onda lambda, ma lambda lo potete scrivere come 2 pi greco su k e la stessa cosa ottenete qua. Se fate la differenza n più 1 meno n trovate questa quantità, ma questa quantità k' meno k è delta k e trovate questa relazione. Questa si chiama relazione di dispersione di Fourier ed è una relazione di ottica che era nota dalla fine, dal metà dell'ottocento. Potete fare la stessa cosa anche nello sviluppo temporale dell'onda, non nello sviluppo spaziale, e ottenete nello stesso modo questa relazione delta omega delta t maggiore o uguale di 2 pi greco. Queste sono le due relazioni classiche di dispersione di Fourier. E adesso vediamo che l'indeterminazione di Bohr è ricavabile in modo semplice a partire dalle relazioni di dispersione di Fourier, aggiungendovi il dualismo onda particella. Partiamo dalle relazioni di dispersione che abbiamo appena ricavato. Andiamo a metterci il dualismo onda particella, questo è quello di De Broglie, questo è quello di Einstein. Otteniamo che delta k è delta p su h tagliato, quindi andiamo a sostituire delta k qua dentro, e troviamo delta x per delta p di x maggiore o uguale di h. Facciamo la stessa cosa per il delta omega che conferiva nella relazione di dispersione di Fourier. Andiamo a metterci delta e su h tagliato e troviamo la relazione di indeterminazione tra energia e tempo in base a Bohr. Notate che qua non è stata fatta nessuna misura. Questa è una proprietà delle onde. Io non ho per nulla perturbato il sistema, ho soltanto descritto matematicamente il sistema. E però anche da qui mi emerge un'indeterminazione che è diversa dall'indeterminazione che ho visto prima. Che cosa deduco? Che a differenza dell'incertezza classica, l'errore di misura, l'indeterminazione quantistica non è arbitrariamente riducibile. Non è riducibile perché come minimo mi vale h. Quindi anche per l'indeterminazione ho una indeterminazione epistemica che è l'incertezza classica, gli errori di misura che posso ridurre se uso strumenti più precisi e se sono più bravo a fare le mie misure. E esiste un'incertezza imprensica che è tipica della meccanica quantistica. Che cos'è questa incertezza? Ancora una volta dipende dal mio punto di vista. Realismo scientifico, realismo strutturale, avrò un'indeterminazione ontologica o un'indeterminazione strutturale. Conclusione, comunque la meccanica quantistica è una teoria intrinsicamente indeterministica. Abbiamo visto quindi che abbiamo ricavato i tre risultati più importanti della meccanica quantistica, l'atomo di Bohr, l'equazione di Schrödinger, l'indeterminazione di Heisenberg-Bohr, partendo da leggi fisiche note in meccanica classica che non ho mai dato fastidio a nessuno, che tutti conoscevano, che stanno scritte da cento anni nei libri di testo. Ci ho messo il dualismo onda particella e ho ricavato le relazioni fondamentali della meccanica quantistica. Allora a questo punto diventa importante capire qualcosa di più in dettaglio su questo dualismo onda particella. Tutto parte con Einstein, con un articolo del 1909 in cui fa l'analisi statistica della radiazione di corpo nero, sta studiando la varianza, la varianza della media. Cioè voi sapete che in una distribuzione non è importante soltanto la media. Queste due distribuzioni hanno la stessa media ma due varianze diverse. Ok? Quindi quando io studio una distribuzione non mi basta conoscere il valore medio che era stato calcolato da Planck, 1900, della radiazione del corpo nero. Devo andare a vedere la varianza. Studiando la varianza lui scopre che la varianza è proporzionale al numero di quanti emessi più il numero di quanti al quadrato. Questa è una cosa anomala perché i fisici dei primi del novecento erano già arrivati a capire che i sistemi formati da particelle hanno una varianza che è proporzionale al numero di oggetti e obbedisce alla statistica di Poisson. I sistemi ondulatori hanno una varianza che è proporzionale al quadrato del numero di oggetti e questo dà luogo ai termini di interferenza. Quindi trovarli tutte e due che descrivono che servono a descrivere lo stesso sistema è un risultato sconcertante perché vuol dire che il corpo nero mostra contemporaneamente un comportamento sia ondulatorio sia particellare e se non ci fossero entrambi non varrebbe la conservazione dell'energia. Questo è un risultato che Einstein arricchava due anni dopo. Veniamo a De Broglie, di De Broglie vi ho già detto, De Broglie nel 24 simmetrizza la situazione attribuendo una lunghezza d'onda alle particelle. Heisenberg, quindi per De Broglie esistono 24 onde e particelle, cioè la coesistenza fisica dell'onda e della particella, con la particella che guida e fa da pilota all'onda. Heisenberg nel 25 formula la prima versione della meccanica che si chiama meccanica matriciale perché utilizza le matrice. Si tratta di un calcolo di quantità fisiche senza nessuna visualizzazione matematica, cioè loro volevano arrivare a calcolare, fare dei conti senza passare attraverso un modello, quindi loro non volevano pensare né a orbite né a particelle né a onde. Si facevano i calcoli e basta, si guardava l'esito delle quantità previste dai calcoli e si andava a fare l'esperimento in laboratorio. È un atteggiamento di positivismo scientifico, non esiste nessun modello, nessuna antologia, nessuna visione del mondo. La filosofia qui è ridotta a pura metodologia. Secondo Heisenberg e Jordan non bisogna parlare né di onde né di particelle, che sono degli enti di una vecchia metafisica ottocentesca. I fisici nel Novecento, quando parlano dell'infinitamente piccolo, devono limitarsi a fare conti. Schrödinger pensava invece, beh, con l'equazione di Schrödinger scrive l'onda delle equazioni, delle onde materiali di De Broglie e ottiene, abbiamo visto, la funzione d'onda che è legata a una probabilità. Tuttavia, lui resta convinto, anche se abbiamo visto che questa onda non è un'onda fisica, non può essere un'onda fisica perché c'è il fenomeno della dispersione e quindi interviene poi l'interpretazione probabilistica di Born, lui resta convinto che la realtà ultima sia descritta solo da onde senza particelle. L'idea di descrivere la realtà fisica mediante dei campi, quindi senza particelle mediante campi elettromagnetici, era già stata introdotta a fine ottocento dalla concezione elettromagnetica della natura, che tendeva a evitare di parlare di particelle di masse e descrivere tutto in base a campi elettromagnetici di Maxwell. Questa idea venne ripresa negli anni trenta in poi da Einstein e da De Broglie, con la teoria dell'onda pilota e la teoria della doppia soluzione, postulando invece che un campo elettromagnetico, un campo quantistico come origine di tutta la realtà fisica. Schrödinger fa sua questa idea, sono i tre che sostengono Einstein, De Broglie e Schrödinger che sostengono questo punto di vista e ribadì più volte la sua tesi, le particelle sono semplice apparenza, la realtà ultima, la realtà sostanziale è solo indellatoria, ma non fornì mai le equazioni per dimostrare quello che sosteneva, quindi non elaborò mai una teoria compiuta. Arriviamo a Born, Born invece ovviamente per Born ci sono solo particelle senza onde, perché? Perché se io interpreto l'onda come un'onda di probabilità, l'onda non è più un fenomeno fisico, quindi nel mondo reale, nel mondo reale io ho soltanto particelle. Quindi l'onda è soltanto un mente matematico e la realtà quantistica è costituita solo da particelle. Bohr nel 27 formula il principio di complementarità secondo il quale non è possibile in linea di principio attribuire in modo univoco agli enti quantistici proprietà di onda o di particella. A livello ontologico, cioè a livello fondamentale non possiamo dire, perché noi non arriviamo mai a vedere il livello fondamentale, noi vediamo sempre l'interazione della particella con il nostro strumento e allora lui dice dipende dallo strumento che usiamo. Se il nostro strumento è uno strumento che vedrà onde, che serve a vedere onde, vedremo la particella, l'ente quantistico come un'onda. Se usiamo un contatore Geiger che conta particelle, vedremo l'ente quantistico come una particella. Quindi sono onde e particelle a secondo del tipo di strumento che noi andiamo a utilizzare. Arriviamo a Feynman. Feynman introduce a livello quantistico l'esperimento della doppia fenditura. Questa è un'interferenza con onde, un esperimento fatto da Young nel 1801 che mostra il fenomeno dell'interferenza. Le onde hanno cammini, onde luminose per esempio, fanno cammini diversi e questo porta alla costruzione di una figura di interferenza con delle zone più illuminate e delle zone invece meno illuminate in ombra. Questa è la distribuzione di intensità del segnale. Vedete il picco centrale molto luminoso, poi ci sono dei picchi sempre luminosi ma l'intensità via via decrescente. Questi sono i picchi di interferenza di un segnale ottico, di luce laser coerente. Feynman parla di esperimenti invece con degli elettroni. Parla nel 65 nel suo libro dell'esperimento, un esperimento mentale per chi dice non è possibile farlo. L'esperimento della doppia fenditura con elettroni mandati uno alla volta. Dice prenderò questo solo esperimento che è stato formulato in modo da contenere tutti i misteri della meccanica quantistica, così da mettervi interamente di fronte ai misteri, ai paradossi e alle particolarità della natura. Qualsiasi altra situazione della meccanica quantistica può sempre essere spiegata dicendo, vi ricordate dell'esperimento delle due fenditure? È la stessa cosa. E questo qualche anno dopo nel 76 tre italiani a Bologna l'esperimento lo fanno. E quello che vedono è questo. Quando gli elettroni sono pochi arrivano in maniera casuale sulla lastra, sembra un cielo stellato in una notte buia. Quando si accumula statistica man mano emergono le frange di fasce, le frange di interferenza. Questo esperimento ancora rudimentale è stato poi fatto in maniera molto più raffinata, sofisticata dieci anni dopo dal giapponese Tonomura e qui vedete la stessa cosa. Un cielo stellato che man mano si popola sempre più, ma quando si popola fa emergere le frange di interferenza. È l'esperimento di Yang con elettroni. Dove sta il mistero di questo esperimento? Per avere la figura di interferenza, pensate alle onde, l'onda deve passare da entrambe le fenditure. Qui ci sono due principi di Huygens, qui ci sono due sorgenti e queste due sorgenti danno luogo a onde sferiche che interferiscono. Quindi l'onda passa da entrambe le fenditure e questo provoca l'interferenza. Ma l'elettrone è una particella massiva, non può passare da due parti. E allora? Allora a volte si dice che l'elettrone si propaga come un'onda tra la sorgente e lo schermo e interagisce come una particella sullo schermo, ma in fisica classica non esiste niente che si comporti in questo modo, né le onde né le particelle. Quindi questa è una spiegazione ad hoc del tutto insoddisfacente. Infatti Feynman dice, dobbiamo concludere che l'elettrone non si comporta in nessuno dei due modi. Non è né l'una né l'altra cosa. Il comportamento quantistico degli oggetti atomici, elettroni, protoni, neutroni e così via, è lo stesso per tutti. Sono tutti onde particelle o qualunque altro nome vi piace dar loro. E qualche anno dopo, due anni dopo, l'epistemologo argentino Mario Bunge propone questo nome per queste onde particelle. Dice chiamiamoli quantoni, così non ci confondiamo. I quantoni sono gli oggetti della meccanica quantistica. Cos'è un quantone? Non lo possiamo capire. Noi vediamo due proiezioni diverse di questo oggetto, un po' come le ombre nella caverna di Platone. Il quantone è qualcosa che noi non vediamo, ma ne percepiamo, come diceva Bohr, due proiezioni diverse. O lo vediamo proiettato nello spazio delle particelle e lo vediamo come una particella, o lo vediamo proiettato nello spazio delle onde e allora lo vediamo come un'onda. Noi siamo costretti a vedere solo l'ombra di quello che in effetti è un quantone, che non è né l'una né l'altra cosa. In realtà lui sarebbe un cilindro, ma noi ne vediamo soltanto la proiezione come un rettangolo o la proiezione come un cerco. Ma, ultimo passo, il teorema di connessioni tra spina e statistica di Pauli dice che esistono due tipi di enti quantistici, i bosoni che sono gli oggetti che hanno spin intero e i fermioni che sono quelli che hanno spin semidispari e tutti gli enti quantistici bosoni o fermioni sono quindi classificabili, o come fermioni o come bosoni. Inoltre i bosoni obbediscono a una statistica quantistica detta di Bose e Einstein e fermioni una statistica quantistica detta di Fermidira. Quindi la realtà, la struttura ontologica della realtà quantistica è costituita non da odio particelle che esistevano secondo l'ontologia primitiva della fisica classica, ma da bosoni o fermioni che sono i costituenti elementari della materia a livello subatomico. Quali sono allora le proprietà di questi quantoni? Assenza di traiettoria, di conseguenza non avendo una traiettoria quantoni identici sono indistinguibili. Abbiamo visto che sono caratterizzati da un probabilismo intrinseco, da un determinismo intrinseco, sono dotati di spin che è una proprietà tipicamente quantistica, di conseguenza sono bosoni o fermioni e in quanto bosoni o fermioni obbediscono alla statistica di Bose e Einstein o a quella di Fermidira. E infatti il modello standard delle particelle, quello che è stato elaborato dagli anni settanta in poi, prevede tutta una serie di mattoni elementari, di mattoncini Lego con cui sono costruite tutte le particelle e tutti questi oggetti sono o fermioni in questo settore o bosoni in questo settore. Conclusioni. Alla fine di questo percorso didattico gli studenti avranno capito come ricavare i risultati, i principali risultati quantistici, atomo di Bohr, equazione di Schrödinger, disuguaglianze di Bohr, a partire da semplici concetti classici integrati dal dualismo onda particella. Avranno compreso l'evoluzione storica avvenuta nell'ontologia primitiva della meccanica quantistica dal concetto di onda particella alla dicotomia Bosone-Fermione. Sapranno distinguere la struttura formale di una teoria dalle sue interpretazioni, come pure il realismo scientifico da quello strutturale, e potranno trovare parallelismi tra fisica e filosofia grazie al carattere fortemente interdisciplinare di questa proposta. Tutte queste cose che vi ho raccontato sono dettagliate in una tesi fatta dalla dottoressa Ucci, discursa dalla dottoressa Ucci una settimana venerdì scorso qui a Pavia, e quindi tutti i riferimenti puntuali alla bibliografia sono contenuti nella sua tesi che è disponibile su richiesta. Grazie per l'attenzione. Grazie, c'è il mito? Ci sono domande? Come proposte per l'insegnamento della scuola sconale di seconda, grazie ai licei, è un tema molto ambizioso. Credo che ripiega tempo, approfondimenti anche filosofici, quindi anche la parte di filosofia dovrebbe adeguare, come mitigare il proprio programma e non so quanti dei lavorati in filosofia sono in grado di investire, è una cosa che di solito non si fa, è una parte che mi deve pensare che sappiamo molto, molto, che poi non ha una risoluzione inizionale, non ha una risoluzione chiara, non è che diciamo che la risoluzione è questa, ma ha proposto un spettro di interpretazione, di visione che non... ci sono tutti i rapporti sui risultati, diciamo, delle predizioni, però sull'interpretazione che si dà, c'è un punto di risoluzione, e molti passaggi devono mettere insomma che sono parecchio complessi. I passaggi fondamentali sono algebrici, sono tre. Sono anche concettuali, come tutti sappiamo, a parte la parla algebra che non è banalissima, le equazioni differenziali... No, ma tu non spieghi le equazioni differenziali, tu gliela fai vedere, dici, in tre passaggi passo da qui a qui. Questa si chiama equazione di D'Alembert, questa si chiama equazione di Schrödinger. Questa è classica, questa è quantistica. Tutto lì. E comunque richiede una meditazione abbastanza articolata, concettuale anche, che noi di solito facciamo il terzanno... Avete di istituzione fisica teorica, adesso mi ricamiamo il fisico, e non so che si fa il terzanno in fisica, per avere un minimo di... invece la parla a minimo di comprensione, quindi è certamente molto ambiziosa. L'unico... l'altro commento che c'era... Quindi, naturalmente, della serie al ritmo strutturale e scientifico, quello che avevo raggiunto, leggendo, non mi ricordo a cosa, facendo apporti... e poi ho fatto corso con il professor Perusperi, che ero un grande interprete delle fondamenti meccaniche quantissime, a me nà. Tu consigli di parlare della realtà, come se fosse un'entità ontologica distinta dalle misure. Però, con lo scienziato, in realtà, le misure... In realtà, lo scienziato ci sono le misure. La scienziata ci sono le misure, non le realtà. Se no, facilmente trascendere nella metafilica di Perus. E' un caso che incontriva. Allora... No, sì. Non sono d'accordo con la parola grossica. Mi lascio che noi trattiamo con certezza le misure e le predizioni sulle misure. Sì, grazie. Non lo scienziato e finisce lì. No, è vero. Se no, finisce la metafilica. No, è vero e non è vero. Allora, immagino... E' vero e non è vero. E' vero e non è vero. No, ma c'è un argomento su cui anche i non realisti, cioè quelli che aderiscono all'interpretazione di Copenaghen, devono aderire. Cioè, nell'interpretazione di Copenaghen, come ha detto lui, tutte le quantità fisiche nascono dall'interazione con lo strumento. Quindi noi non possiamo parlare di una realtà perché non è attingibile quello che diceva Bohr. Noi non vediamo la particella. Vediamo soltanto che cosa ci legge l'indice del nostro strumento. Quindi l'interazione tra il nostro strumento e l'ente quantistico. Però ci sono tre eccezioni. Ci sono tre quantità che sono proprietà che non dipendono dalla misura. E per una particella queste sono la massa, la carica e lo spin. Queste tre devono avere un significato anche per chi sostiene l'interpretazione di Copenaghen, perché l'esito non dipende dalla misura. Cioè tu per ogni protone che misurerai al mondo troverai sempre che la carica è un TEV, che la massa è un TEV, che la carica è più uno, un GEV, che la carica è un GEV e lo spin un mezzo. Quindi queste sono proprietà che non dipendono dall'interazione con lo strumento. Quindi infatti tutte le proprietà dei quantoni sono legate allo spin e derivano il fatto di essere bosoni o fermioni, sono proprietà che anche chi sostiene l'interpretazione di Copenaghen non obbietta. Perché qui puoi anche essere un antirealista, aderire alla concezione fenomenologica, ma queste quantità ci sono. Per una particella singola e sono oggettive, nel senso che tutte le volte che le misure le ritrovi. Quindi non dipendono dallo strumento come dipende dallo strumento la misura della massa, scusa, della velocità o della posizione. Quindi, dopodiché, chiaramente, pensare in termini di ontologia implica essere a qualche livello realista. Cioè, o un realista strutturale o un realista scientifico, ma sei un realista. Se tu, invece, hai un atteggiamento di tipo strettamente fenomenologico, dici, non lo so, io faccio solo misure, tutto questo discorso per testa da un'altra parte. Ma non questo, però. Quindi la derivazione del concetto di quantone e del fatto che in natura esistano bosoni e fermioni, è vera anche se tu non hai, anche per un fenomenologista. Perché quelle sono proprietà intrinseche, non operazionali, non dipendono dalla misura che fai. Anche commenti, domande? E d'altra parte, invece, per la questione della difficoltà, la difficoltà formale è nulla, secondo me. Perché parti da delle relazioni classiche con delle sostituzioni algebri che arrivi a delle conclusioni, a delle formule quantistiche. E devi fare un esperimento. No, spero, non farlo via. No, la difficoltà è concettuale, ma questo è ammesso. Cioè, questo qui te lo ammetto io dal punto, fin dall'inizio. Cioè, l'idea è far emergere il fatto che la problematicità della teoria stia a livello di concetti e del fatto che devi usare per forza la filosofia per capire cosa stai facendo. Cosa che invece prima in meccanica classica non ti si poneva mai come problema. Perché il mondo che vedevi era il mondo di cui fai esperienza tutti i giorni. Quindi dovevi chiederti che cosa sto facendo, che cosa sto guardando. Perché interagivi e guardavi esattamente le stesse cose che guardi e con cui interagisci da quando sei nato. Quindi lì la problematicità, diciamo, filosofica della meccanica classica è zero. E quella della meccanica quantistica non è zero. Ok, adesso facciamo, cioè Massimiliano, prima volevo fare un commento io. Sono un po' d'accordo con Paolo. In un suono della materia, però insegno sia fisica che in altre forze di laurea. E credo che, diciamo, magari per questo campione potrebbe anche andare bene. Gli altri hanno problemi a dire F uguale a MA risalzo a M per M. Quindi anche la parte, diciamo, algebrica è ben oltre quello che possono capire, secondo me. Sì, grazie per l'aggiunta. E non è vero che sono meno importanti o contestate, a livello scientifico esistono una serie di lavori scientifici degli anni 2000, essenzialmente legati a tre autori, BLV, Bush, Latte e Werner, che sono i più grossi esperti mondiali di questa materia, che hanno lavorato a lungo per arrivare a una dimostrazione di questo tipo, del perché avviene un'interazione di tipo interazione disturbo, e inoltre che, se uno vuol vedere invece dal punto di vista delle misure, esistono delle relazioni universali, delle relazioni universali dovute a Fujikawa, che sono sostanzialmente queste. Questo è l'errore, più questo è l'errore intrinseco, l'errore statistico del primo, sulla prima misura, per il disturbo sulla seconda misura, più l'indeterminazione intrinseca sulla seconda misura, e queste sono maggiori o uguali di una quantità che è sostanzialmente data da neorema di Robertson. Ok? Quindi queste qua, queste qua, è una relazione universale, si chiama relazione di determinazione universale di Fujikawa, e è stata verificata sperimentalmente. Cioè, ci sono degli esperimenti, sia di interferometria ottica, sia di interferometria elettronica, sia di esperimenti di quantum optics, che fanno vedere che ci sono dei casi in cui da sola l'indeterminazione, o solo di Robertson, o solo di Heisenberg, non dando un po' argomenti accadenti. Allora, o una o l'altra, questa qui è quella intrinseca, questa è l'indeterminazione statistica intrinseca, questa è l'indeterminazione operazionale, cioè dovuta una misura, e questa sarebbe uguale alla stessa quantità, o solo questo, solo questa non bastano, devi utilizzare questa relazione per poter dar conto dei risultati. Quindi ce ne hai tutte e due, non è che ce ne hai una e non l'altra. Dopodiché, anche perché è facile invece, secondo me, capire, è molto facile capire perché mi ritrovi Heisenberg, perché se a un livello, mentre la misura classica non perturba il sistema, quando io con un amperometro vado a fare una misura di corrente, il delta di corrente, cioè la corrente rinassolve l'amperometro, è molto piccola, perché usa una resistenza grande, quindi il flusso di corrente nel circuito sostanzialmente non cambia, quando io ho un elettrone e un fotone, non posso non sparare qualcosa di lunghezza d'onda tale che mi fa muovere l'elettrone. Quindi il disturbo, quando io gli sparo contro un fotone per andare a vedere dove va a finire il fotone, è inevitabile, perché non ho niente di più piccolo del fotone con cui far interagire questo elettrone. Cioè la sonda e il sistema fisico sono energeticamente dello stesso ordine di grandezza, quindi non è una, non è una, come posso dire, una piuma che va a interagire con un'automobile, è uno scontro tra due automobili, e entrambe le automobili cambiano direzione, come spettano in questa interazione, perché sono dello stesso ordine di grandezza. Cioè l'indeterminazione operazionale a livello microscopico è inevitabile. È più difficile spiegarvi perché c'è quella imprese che vuole operazionale. Va bene, andiamo con un'altra domanda. Al punto di vista del disegno del discorso, non sarebbe, anche qui, che è semplice partire dall'intermedio, magari quello della doppia vendita di una delle lezione, e poi sempre il rigore è una domanda di lungo comunicare, ma può prendere, dare subito un'interpretazione in King, ad esempio quella molti molti oppure un'altra. Allora, molti... C'è tanto di spiegare gli esperimenti in questo modo tralasciato a parte tematica, perché alla fine uno studente del superiore difficilmente andrà subito dopo il video a controllare nel mondo reale questi problemi. È più importante che comprenda i problemi con il più modo pensare. Sì, però ti riconto che la fisica ha anche un suo formalismo, non è che tu spieghi tutta la meccanica classica per l'esperimento. No, però se non capisci l'esperimento, cioè se hai anche la formula matematica ma non la capisci, se spinge lo studente all'allontanarsi a quella branca. Ma se hai l'esperimento e non l'interprofi matematicamente non hai capito l'esperimento. Cioè, le due cose vanno insieme. Non hai uno senza l'altro. Certo, però per un studente del superiore è più semplice capire ciò questo accade così. Sì, ma questo accade così non è una spiegazione. Ovviamente non è la spiegazione che va data all'università con un studente fisica, però una persona che poi avrà a studiare economia o medicina che lo possa notare. Sì, sì, questo è legittimo, cioè quello che dici perché siccome siamo a livello di proposte non esiste una proposta giusta e una proposta sbagliata. Cioè, ti faccio notare due cose che quello che dici in realtà assomiglia molto per quanto capisco alla proposta di Elio Fabri. Cioè, cominciamo con le evidenze sperimentali e da lì costruiamo una consapevolezza che le cose vanno in modo diverso, legittimo. Là, il fatto che però a un certo punto devi metterci dentro la teoria nasce dal fatto che se anche tu parti da un'evidenza di uno strumento come Mark Zender, come fanno il gruppo di Pavia, che si comporti in maniera diversa da come ti aspetti poi però devi spiegarti perché e questo implica un aspetto teorico che ti porta a parlare di termini di interferenza. Cioè, perché gli sfasamenti qui sono importanti e non sono più quelli classici. Cioè, è questo comunque una teoria devi metterla dentro. Ma il mio tentativo è proprio quello di avere un approccio diverso. Cioè, fatti vedere qui il problema è un problema i risultati li ottieni secondo me con tre passaggi algebrici che se uno a livello di liceo o peggio ancora a livello di università non sa fare abbiamo serie problemi di alfabetizzazione scientifica. Ma a prescindere da questo a prescindere da questo secondo me il problema che non viene messo in evidenza è che la meccanica quantistica ti dà serie problemi di comprensione concettuale. ti devi mettere davanti una teoria che per la prima volta non è più fatta come il mondo a cui sei abituato quindi devi pensare in termini filosofici cioè devi pensare come sono fatte le mie teorie le mie teorie cosa vanno a cambiare come cambiano la mia visione delle cose e devi pensare che a un certo punto qui stai giocando con qualcosa che ti cambia l'oggetto fisico non c'è più la distinzione secca tra il tuo oggetto e il tuo strumento di misura il tuo strumento di misura è grande tanto quanto il tuo oggetto e quindi quando li fa interagire qui inevitabilmente cambia entrambi e questo fatto che cambia entrambi salta fuori qua. Bene ho altre domande se non si andate va a dire la tesi che è stata fatta è solo una proposta chiamiamola teorica no no dobbiamo trovare stiamo cercando qualcuno un insegnante che dica la prova cercando le cavi no sto cercando un volontario le cavi sono i suoi studenti io sto cercando uno sperimentatore non le cavi io cerco qualcuno che mi fornisca le cavi sì ancora non lo puoi dire più efficace perché non ha il termine comparativo cioè dovresti avere due classi omogenee in cui fai due cose diverse e poi vai a verificare dei test di apprendimento cosa hanno capito cosa non hanno capito però puoi fare dei test auguri io faccio fatica a trovarne uno se tu me ne trovi due con cui fare due metodi diversi non c'è un metodo traduzionale questi sono tutte cose che non si fanno usualmente mediamente nei licei oggi cioè non viene insegnata la meccanica quantistica sì forse arrivi alla sì ma non è non è prassi comune insegnare meccanica quantistica nella quinta e liceo credo anche perché non arrivino quel programma io l'avevo fatto io ti posso dire che è la mia esperienza io ho fatto un liceo sperimentale in progetto pilota abbiamo fatto 5 anni di fisica il quinto anno è stato tutto di fisica moderna abbiamo finito l'elettromagnetismo in quarta non era molto è e noi sì abbiamo facevamo i vari tipi di reattore l'ultimo argomento erano i vari tipi di reattore si vediamo ma è l'ultimo argomento l'ultimo argomento per il liceo di liceo ma forse per il che adesso che questo è un'ultima di l'ultima l'ultima evidentemente ma quello che è mencionato all'inizio per la fotografia ministeriale c'è gli insegnanti devono trattare di silenzio e di l'autorità quindi direi una stragrande di abbranzo dei miei segnali che l'inter della di l'inter di problema di ministeriale che fa bene ma se si 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 si